Alle ore 12 di oggi, presso la Cappella Maggiore del Seminario Vescovile, davanti ai sacerdoti al Consiglio Pastorale di Ocesano, il Vescovo Mario Russotto, dopo un momento di preghiera, ha annunciato che il Santo Padre Francesco ha nominato Vescovo di noto Salvatore Rumeo, parroco del Sacro Cuore in Caltanissetta e direttore dell'Ufficio Catechistico di Ocesano. Un grosso e sentito applauso da parte dei presenti ha salutato la notizia e la lettura della comunicazione ufficiale da parte dell'Annunziata Apostolica in Italia. Padre Rumeo, originario di Delia, è infatti il terzo Vescovo nominato dal clero di Caltanissetta in appena due anni, dopo Sua Eccellenza Monsignor Francesco Lomandorci, Vescovo di Siracusa del 2020 e Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe La Plaga, Vescovo di Ragusa del 2021. Il Vescovo ha consegnato in dono al Neoletto il suo zucchetto e la sua croce pettorale. Il Vescovo nominato da parte sua, assai commosso ed emozionato, ha ringraziato il Signore per il dono dell'Episcopato e ha chiesto preghiere a tutti per essere sostenuto nel nuovo e gravoso ministero. Ha rivolto un particolare ringraziamento a Caltanissetta e al Vescovo Mario. Ha poi ricordato la sua famiglia che lo ha sempre accompagnato sia negli anni di seminario che nel suo ministero sacerdotale. Infine ha salutato la Chiesa Netina, alla quale ha indirizzato un'acquarata lettera. L'annuncio è stato dato contestualmente dal bollettino quotidiano della Santa Sede a Caltanissetta e a Noto.